Non è possibile che l'Unione Europea per far fronte alla crisi migratoria nella rotta balcanica decide di mettere 3 miliardi e forse altri 3 sul tavolo e quando si parla della rotta del Mediterraneo centrale un commissario europeo ci dica che nel bilancio ci sono già 24 milioni stanziati. Se questa è l'impostazione non andiamo da nessuna parte e Africa Bond o non Africa Bond perché si possono trovare anche degli altri strumenti noi credo realisticamente otterremo dall'Europa un impegno significativo che poi si tradurrà in accordi con paesi, in politiche di rimpatrio, in quell'elemento che a noi serve di riduzione dei flussi per poterli gestire perché noi non li cancelleremo, vi faremo i conti per decenni e ne abbiamo perfino bisogno dei flussi migratori. Non solo non dobbiamo illuderci di cancellarli ma ne abbiamo perfino bisogno, ma naturalmente ne abbiamo bisogno con dei flussi che possano essere gestiti, organizzati potenzialmente in modo regolare e non devastante.